E' stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere Antonio Poliafico, 40 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, direttore dei lavori della Helios SRL, società del settore degli impianti fotovoltaici coinvolta nell'inchiesta sull'energia alternativa in Puglia. Dopo l'operazione della settimana scorsa della procura di Brindisi, stavolta l'indagine riguarda la provincia di Lecce. Il procuratore aggiunto, Egno Cillo, ha firmato l'avviso di conclusione delle indagini per il responsabile della Helios SRL Roberto Saia, 44 anni, di Roma, per il direttore dei lavori Antonio Poliafico, 40 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi già in carcere, ed è rappresentante legale della Italgest Photovoltaic SRL Javier Inassio Romero Ledesma, 40 anni, residente nella capitale e ancora latitante, considerato il deus ex machina dell'intero business. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono quelle di falsità ideologica incertificati commessa da chi esercita un servizio di pubblica necessità falso in atto pubblico, oltre che di tentata truffa aggravata, ai danni del gestore dei servizi energetici, del valore di oltre 33 milioni di euro. Accuse che proprio nei giorni scorsi sono tornate al vaio degli inquirenti, che vogliono accertare se i cinque parchi fotovoltaici interessati da questi accertamenti abbiano già percepito parte degli incentivi del gestore dei servizi energetici. In questo caso potrebbe aggiungersi anche l'accusa di truffa aggravata in concorso. Gli impianti, finiti sotto la lente di ingrandimento degli uomini della sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale di Lecce, sorgono a matino Nardò con le pasto e salice. I reati ipotizzati sarebbero stati tutti commessi a partire dalla fine del dicembre del 2010.